Se tu sei una persona di valore e se hai fatto il mio corso sicuramente lo sei, mi spieghi per quale motivo lui dovrebbe pensare che tu non lo sia nel momento in cui gli scrivi o lo cerchi. Anzi a quel punto lui dovrebbe essere lusingato e dire cavolo una persona di valore mi sta cercando. Mentre se tu non sei una persona di valore non vedo per quale motivo lui dovrebbe credere che tu lo sia perché non gli scrivi. Non è che non scrivergli fa di te una persona che vale se tu non vali. Non sto parlando di te, dico in generale. Sto cercando di far capire quanto sia sbagliato questo pensiero. Lui non ti vedrà di valore perché non lo cerchi. Il tuo valore prescinde dal fatto di cercarlo o di non cercarlo. Semplicemente o gli piaci o non gli piaci.